Lutto nella comunità di Santa Barbara e non solo. Si è spento il capogruppo scout della parrocchia Massimo Sicilia, cinquantenne, ad annunciare la triste notizia e il parroco Don Marco, che scrive in un post su Facebook Siamo profondamente addolorati nell'apprendere questa triste notizia, anche se purtroppo preparati da giorni a questo umano distacco a motivo del peggioramento delle sue condizioni di salute. Il parroco aggiunge, caro Massimo ti ringrazio a titolo personale e dell'intera comunità parrocchiale per il servizio svolto in questi tre anni in mezzo a noi e soprattutto ti sarò grato a vita per averci permesso di avviare l'esperienza scout nel nostro quartiere. Pur non vivendo a Santa Barbara, sottolinea Don Marco, sei riuscito ad entrare subito nel cuore dei ragazzi e a farti stimare in poco tempo dalle famiglie e dai collaboratori parrocchiali, evidenziando sei stato un educatore appassionato che ci ha trasmesso l'amore verso le nuove generazioni, sempre pronto al servizio, non ti sei mai tirato indietro e hai avuto la capacità di stimolare il gruppo in ogni momento. I funerali di Massimo Sicilia giovedì alle ore 15 e 30 in cattedrale.